Grazie Giocaglia, grazie, grazie Itero. Domenico, altri falliti vorremmo presentarti la gemella malvagia di Amalia. Non voglio scammare gli altri che mi hanno mandato link prima, però quando Giocaglia mi dice una cosa del genere, io ho bisogno di cap... No! Amelia! La conosco, la conosco. Amelia. La grandissima Giocaglia. Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. E io sono meglio quello di oggi è un video in lista. Sì, lo so, vi ho già triturato i marioni con i video in lista. Marioni? Ma in uno slancio di... Mi sono accorta che nella playlist dei top e flop del nostro canale manca la mia top ten dei sei, nenni quindi... Lei è il vicario Amelia, ragazzi. Boss di Bloodborne. Fortissima, eh. Ho deciso che ve la cuccate oggi perché... Eh, parla proprio basso, lei. ...ve la video fare, quindi se non siete avvezzi a questa tipologia di video sappiate che prendo i fumetti della mia collezione e do loro i punteggi in base ai punteggi che si sono cuccati sul sito di AnimeClick. Ma perché usa queste parole tipo marioni, cuccati? A me fa troppo ridere, insomma. Comunque, Amelia. La versione buona di Amalia. Il vero significato di Cowboy Bebop, di Fear of Unknown. Divertiamoci, divertiamoci. Ciò che secondo me rende Cowboy Bebop un capolavoro è il modo con cui i personaggi, gli eventi, le storie e le tematiche si fondono nella sua struttura di episodi quasi antologici capovolgendo letteralmente ogni punto di vista quello dei personaggi, ma soprattutto il nostro. Il più grande vantaggio di una storia serializzata è il tempo, la durata. La televisione, a differenza del cinema, può sfruttare tutti i suoi episodi per costruire sia la profondità che la complessità. I personaggi televisivi non sono intrappolati in due ore di storia non sono confinati in un unico ciclo che li vede nascere e morire ma hanno a disposizione una lunghissima linea sulla quale muoversi, crescere, evolvere. Che poi praticamente oggi non esiste più perché si fanno solo sequel, 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 sequel. Però rende ovviamente necessario un diverso tipo di storytelling una struttura narrativa in tre atti classica, tipica del cinema non sarà più la scelta ideale serviranno delle strutture più elastiche, più dinamiche che si possano prestare racconti molto lunghi fatti di 10, 20 o anche 30 episodi. E una di queste strutture è proprio quella antologica ossia quella che isola ogni episodio in una sua microstoria e in un suo micro-universo pur però mantenendo una linea narrativa di fondo che faccia d'accollante a tutte queste microstorie e a tutti questi micro-universi. E' solo tramite il calderone finale fatto di tutti gli eventi singoli e di tutti i personaggi individuali che noi possiamo scoprire la bellezza e l'essenza di un'opera immortale come Cowboy Bebop. Il background fantascientifico e le avventure spericolate dei nostri simpatici cacciatori d'Italia sono tutti elementi periferici, secondari perché se noi analizziamo l'opera sia nella sua interezza sia in ogni suo episodio al dettaglio ci rendiamo conto che non sono questi i pilastri attorno a cui è costruito Stavo vedendo questi eventi nella serie accadono nel 2020, ok. ...e sviluppata la storia addirittura molti hanno criticato il fatto che Cowboy Bebop non si abbia nemmeno una storia ...e questo è vero solo laddove si voglia fare... ...non mi trovavo... ...2020 ...ha messo lui ...me ha confuso Ma allora il passato di Jet ...e essersi fermato Si può trovare qualcosa nel nulla più buio? Si può trovare uno scopo oltre alla mera sopravvivenza? Ci si può liberare una volta per tutte del proprio passato? Sono questi dilemmi esistenziali che attanagliano quei personaggi e che li obbligano a vivere ogni episodio come se stessero fuggendo da loro stessi e infatti è proprio così tutti i membri dell'equipaggio della Bebop stanno fuggendo da un qualcosa che appartiene a loro stessi il passato Noi siamo il nostro passato reinterpretato dal presente per proiettarlo nel futuro Questa frase della psicologa austriaca Melanie Klein mi ha sempre affascinato perché secondo me racchiude una verità molto più profonda di quello che potrebbe sembrare Il passato è una cosa che tutti quanti abbiamo al di là della memoria ma il modo in cui lo gestiamo il modo con cui ci rapportiamo al passato è unico è solo nostro combatterlo sfuggirli via comprenderlo inseguirlo farci pace ognuno di noi si comporta diversamente con il suo passato perché non esiste un criterio mediante il quale poter fare un paragone fra i trascorsi umani è ciò che si definisce esperienza è ciò che contribuisce a formarci come persone come individui come esseri umani e questo è sicuramente uno dei motivi per cui si tratta di un tema così affascinante all'interno della letteratura del cinema e della cultura pop ma all'interno di Cowboy Bebop non è solo un tema affascinante è l'anima di tutto lo show in Cowboy Bebop non c'è un obiettivo non c'è uno scopo non c'è una terra da salvare non c'è una pace da difendere e non c'è un cattivo da sconfiggere c'è solo il tempo Spike, Jet, Faye e The Hine tutti loro sono in balia del tempo del loro tempo sono la rappresentazione perfetta di una vita passata ad aspettare qualcosa che è già successo una volta e che quindi non succederà mai più l'equipaggio della Bebop è perso nelle profondità del cosmo senza un motivo senza una giustificazione fluttuano semplicemente tra inerzia e passività nonostante ogni episodio si focalizzi su nuovi personaggi ho detto bene Mattia grazie a 100 bit quando vedo Spike, Jet, Faye a volte mi vengono in mente Lupin, Jigen e Fujiko ma chiaramente Shinjiro Watanabe ha mutuato i character design dei personaggi di Lupin e li ha messi qua dentro sostanzialmente è abbastanza un Lupin nello spazio ed è uno dei motivi per cui mi piace tantissimo Cowboy Bebop grazie Luigi Flash per il secondo mese di abbonamento e su nuove vicissitudini né i primi né le seconde sono direttamente collegati alla sfera dei protagonisti sono solo eventi che ruotano attorno a loro e che noi spettatori vediamo filtrati dai loro occhi Spike e tutti gli altri vengono coinvolti per caso in ciò che succede sono vittime delle circostanze in un certo senso e questo è fondamentale per comprendere la filosofia di fondo ai nostri protagonisti non importa nulla perché ognuno di loro ha già qualcosa che risucchia completamente l'attenzione qualcosa che lo tormenta il passato di conseguenza di fronte a questo macigno tutto il resto svanisce è il peso del passato bello brutto che sia il peso di un ancora che ti tiene fermo e che ti impedisce di vivere davvero il viaggio della vita possiamo nemmeno atterrare solo con i suoi cittadini perché sono venuti da male a varire ecco perché Spike e i suoi compagni sono un momento random così distaccati da tutto perché seguono il corso degli eventi a differenza di tutti gli altri personaggi che invece lo creano in ogni puntata ma do piedini fei piedini fei con un progetto con un piano e dentro ci finiscono anche i nostri eroi ma quella missione quel progetto quel piano non li catturerà mai perché non li riguarda Rocco Bonnaro Victoria Aline Sheen X Andy loro vogliono fare qualcosa perché hanno delle battaglie da combattere ma Spike e gli altri no non hanno battaglie se non quella contro i loro rimpianti la loro priorità non è il futuro è il passato e quando ci si rinchiude nel passato si sprofonda in un dolore immenso se il passato era bello la sofferenza causata dall'averlo perduto sarà straziante viceversa se era un passato terribile rivederlo e riviverlo di continuo nella propria testa sarà altrettanto straziante comunque la civiltà resta una visione struggente fatta di tristezza di apatia e di grida silenziose eppure è una visione tremendamente vera perché si tratta del nostro passato dei nostri problemi il che suona come un po' egoistico è vero ma anche come molto umano ecco perché tutti gli episodi di Cowboy Bebop sembrano così sconnessi perché noi li vediamo tramite gli occhi di protagonisti che non li stanno vivendo davvero tramite gli occhi tramite gli occhi dei protagonisti guardami gli occhi il destro è artificiale quello vero l'ho perso in un incidente da allora con l'occhio sinistro registro il presente mentre con il destro ricordo il passato mi ha insegnato che non sempre ciò che è visibile corrisponde alla realtà poesia 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 ed è questo il vero significato di Cowboy Bebop tutti quei personaggi secondari e tutti quei racconti di contorno all'apparenza privi di significato che noi spettatori abbiamo consumato di episodio in episodio sono un riflesso di quella che è la vita umana un riflesso visto dagli occhi di chi non è riuscito a fare pace con se stesso in altre parole ogni episodio di Cowboy Bebop è la dimostrazione di come sia necessario liberarsi dal peso del passato per poter andare avanti aspettare all'infinito qualcosa o qualcuno che possa riportare indietro le lancette dell'orologio alla dolcezza del passato o che possa cancellare per sempre in questo momento quando Feli dice ma perché ci devi andare che ci va a fare resta qua ci devo andare io sono un uomo e questa cosa la devo affrontare ma perché ci vai devo andare devo andare non mi rompe i coglioni devo andare ma che fatto assurdo i tuoi orrori non è vivere con le sue musiche malinconiche con le sue sequenze solitarie e desolate ma dai cimicino what are up e come stava combinato ma che serie doveva fare guarda il capo John Lennon guarda come stava bruciato negli anni 90 ma che serie doveva tirare fuori per forza cowboy peepop guarda il capo rock man I'm a rock man mamma mia e con i suoi dialoghi così triste duro a volte nemmeno presente per loro che sostanzialmente li ha bloccati nel tempo è una cosa anche molto poetica secondo me perché effettivamente sono dei personaggi che sembrano venire da un altro tempo non sembrano effettivamente dei personaggi che vivono nel futuro sembrano dei personaggi noir western il ladro lupin appunto fei non ne parliamo proprio viene letteralmente là al passato non nel senso che viaggia nel tempo guardando la serie lo capirete è una cosa veramente molto poetica perché Shinichiro Watanabe secondo me ha cercato di creare di ricreare delle icone come Lupin, Jigen e Fujiko a modo suo all'interno di questo contesto che è un mix di noir jazz e sci-fi una cosa veramente pazzesca eppure anche nell'amara sorte di Spike non c'è traccia di pessimismo se lui si fosse riconciliato prima con il suo passato sarebbe finita in un altro modo perché siamo noi che ci costruiamo il nostro destino e il destino è futuro ci sta di fronte non alle spalle sì forse in questo mondo non c'è un vero scopo non c'è una vera speranza ma ciò non toglie che sia scopi che speranze si possano costruire con le proprie mani ma quelle mani per poterlo fare devono essere libere non devono stringere bagagli così quelli che inizialmente ci sembravano tanti episodi divertenti autoconclusivi agli occhi dei protagonisti e anche ai nostri si trasformano in un'unica sequenza ininterrotta una sequenza che solo alla fine porterà quei protagonisti a diventare davvero i soggetti di tutte quelle storie e lo specchio sul passato finalmente si trasformerà in uno specchio sul futuro anche se per Spike un futuro non c'è io non vado a morire ma solo a provare a me stesso se sono realmente vivo oppure no fighissimo lei spara voi ognuno dei protagonisti aveva bisogno di una catarsi di un forte evento intimo che lo scuotesse e che lo liberasse dal binario dell'apatia della ripetitività poi glielo dà glielo dà a tutti quanti e se non arrivi in tempo lo perdi proprio come Spike e vabbè il suo bagaglio era troppo pesante da portare chiude con questa canzone tremenda che ti ha visto la serie sa ti porterai dietro questo peso sig sig non mi fare queste cattiverie poi devo mettere like istantaneo curi nooo che cacchio ma che cacchio però super spoiler mannaggia mannaggia ma ti ho pure difeso prima ho detto no sig non è uno che fa spoiler così senza avvertire sig che cazzo fai moderazione moderazione spietato proprio ma che ha fatto mi dispiace per la chat ragazzi non me lo cioè non me lo aspettavo proprio ho chiuso appena ho sentito spero di aver urlato spero che non abbiate capito spero non abbiate capito non avrai mai a pentirte mannaggia mannaggia sig che fai cazzo 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 vabbè che è un anime di 30 anni fa però cioè non è una buona scusa per spoilerare cioè secondo me ecco la responsabilità dello streamer su TomTom porca troia Mario Scrappone pezzemette adesso tutti sotto i video di Sig spoilerare il mondo no mi dissocio chiaramente mi dissocio mi dissocio mi dissocio non lo fate non lo fate che cazzo però che cazzo allora adesso facciamo diciamo opera di coinvolgimento opera di coinvolgimento che cosa che cosa state aspettando è vero Sig potrebbe averlo spoilerato ma voi che cosa state aspettando a recuperare Cowboy Bebop che state aspettando capolavoro Shinjiro Watanabe capolavoro della Sunrise una delle serie più belle di sempre l'antivianite ha cresciuto una generazione di otaku completamente nuova per l'Italia proprio con un genesis Evangelion Trigan e Cowboy Bebop che sicuramente è una serie immortale che si può guardare riguardare sempre a differenza delle altre due che comunque hanno una struttura o comunque uno è meglio il manga l'altro invece proseguito nel tempo eccetera eccetera Cowboy Bebop è un diamante una gemma immortale che bisognerebbe sicuramente guardare poi c'è pure la colonna sonora perché era veramente fissata è fissatissima Cowboy Bebop per me era la fine del mondo ancora oggi è così quindi ragazzi recuperatelo 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 non fatevi spoilerare le cose in modo migliore per non farsi spoilerare le cose è guardarle prima tanto comunque attraverso i servizi di streaming se non sbaglio su Netflix lo trovate lo guardate Mario grazie ancora prima di recuperarlo vado a fare le visite a SIG sotto casa no io mi dissocio da tutto questo un pulmino di schiaffoni no Mattia Shimozuki grazie a 200 bit dice se passano dieci anni da una fine di un'opera per me non è uno spoiler a me son Mobuda spoilerato il finale di Rocky Joe spoilerato il finale di Rocky Joe vissuto lo stesso sono ancora vivo ma sicuramente vissuto lo stesso sei ancora vivo e a te magari non te ne frega niente anche a me per esempio non frega niente dello spoiler cioè a volte mi capita vabbè vedo una cosa ah ok questa roba qua cioè per me è bello l'esperienza della lettura non è soltanto il finale che fa tutto per molti però il finale diciamo è l'epigono è ciò che è come un frattale è una parte che rappresenta il tutto quindi li capisco io in generale da creator cerco sempre di non spoilerare perché non sai mai con chi ti stai relazionando cioè non sto parlando sempre con persone che la pensano come me secondo me bisognerebbe evitare ecco questo è il mio pensiero simone tagliabosco grazie di 10bit buonasera Domenico premetto che lo ritengo un manghetto d'accesso a trattico di Bila volevo conosci il tuo parere su soliter pure per me uguale simpatico bello protagonista femminile per uno shonen niente male per l'epoca l'anime aveva una opening pazzesca divertente divertente that the kid dei pistoli forse a ridere direttamente bello 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 Grazie a tutti.